Buonasera a tutti, grazie di essere qui, ringrazio anch'io, mi unisco agli ringraziamenti del professor Fallico, a tutti gli organizzatori, anche perché, devo dire, in questo forum, forse è stato sottolineato poco, ci sono state date possibilità alle aziende di fare degli incontri di alto livello e quindi anche da un punto di vista dell'efficienza degli incontri, questo ha dato veramente un'opportunità che do alle aziende per creare rapporti di business. Io partecipo al forum per la prima volta perché nella posizione di responsabile della divisione Est Europa, la responsabilità l'ho presa all'inizio dell'anno, vengo da quasi dieci anni di rinnovabili, però cercherò di essere il più oggettivo e obiettivo possibile nella mia analisi, nelle poche pagine, per spiegarvi in pochi minuti la situazione che vedo in Russia. Allora, prima due pagine che spiegano, vado giù, eccoci, Enel, Enel in Russia, molti di voi la conoscono, quindi non mi dilungherò, chiaramente Enel, vedete qui ho messo alcuni indicatori, a seconda degli indicatori è considerata o la più grande utilità al mondo, o comunque sicuramente fra le più grandi al mondo, 60 milioni di clienti nella distribuzione del retail, quasi 90 mila megawatt, quindi 90 gigawatt installati, di cui una buona parte nelle rinnovabili, poi vedremo una pagina specifica. Per darvi un'idea, nelle reti di distribuzione abbiamo quasi due milioni di chilometri di reti di distribuzione, quindi una grandissima realtà multinazionale, che è presente in Russia, lo vedete nella parte destra della pagina, con un'importante attività che riguarda la generazione, vedete che oltre il 10% della capacità installata di Enel nel mondo è in Russia, circa 3 mila colleghi, quindi 3 mila dipendenti abbiamo in Russia e produciamo oltre 40 teravattora, anche qui per darvi un'idea è circa un settimo di quello che è il mercato italiano nel complesso. E abbiamo anche un'importante presenza nel retail, nella vendita, siamo con un socio russo, abbiamo il 49%, uno dei più grossi clienti sono le ferrovie russe, ma abbiamo anche altri clienti. Green Power, Green Power è una realtà molto importante, anche in questo caso, anche qui non è una gara dire chi è il più grande nel mondo, però è sicuramente l'unica utility al mondo verticalmente integrata e forse la più grande al mondo, presente, come vedete nella cartina, in oltre 30 paesi, quindi molto diversificata geograficamente, molto diversificata dal punto di vista delle tecnologie, lo vedete nella parte destra, quindi oltre alle classiche tecnologie che sono il solare e l'eolico, quelle più comuni, abbiamo un'importante presenza nella geotermia, nell'idroelettrico e anche nella biomassa. Passo alla Russia, allora ho cercato in una pagina, ha un compito non facile di mettere, di spiegare, di rassumere i dati chiave del settore elettrico, del settore power in Russia, allora iniziamo da in alto a sinistra, in cui si vede ovviamente che il mercato russo è molto grande, sono oltre 1060 teravattora, anche qui per la venire vuol dire quasi 4 volte l'Italia, e quindi mercato grande, mercato di opportunità e di interesse. Però se vediamo gli altri grafici iniziano le cose a dimostrarsi un po' forse meno rose di quelle che ho sentito forse in questi dibattiti, nel senso che innanzitutto abbiamo in Russia, questo è proprio il mercato russo, un sistema di generazione di energia per cui oltre il 70% ha più di 25 anni, e circa la metà, poco meno della metà di questi impianti, ha già ecceduto la vita standard di un impianto di quella tipologia. Quindi sono la vetustà del sistema di produzione russa, è abbastanza evidente. Se continuiamo nei grafici, parliamo di domanda, anche lì purtroppo, e questi sono dati che sono stati elaborati, ma su base del fornito al Ministero dell'Energia, quindi sono dati diciamo il più realistici, il più possibili, possibilmente veritieri, vedete che rispetto a quello che era previsto qualche anno fa, questo è il master plan del 2008, è la curva che vedete in alto, con un'importante crescita, quello che lo stesso Ministero dice è che la domanda tendenzialmente sarà fletta negli anni passati e sarà fletta nei prossimi anni. Quest'anno diminuisce di circa il 5%, la domanda di energia in Russia. Ultimo punto, è chiaro che con una domanda che non cresce, anzi si riduce, la overcapacità, quindi la capacità in eccesso rispetto a quella che è necessaria, continua ad aumentare. È l'ultimo grafico che vedete, parliamo di una situazione che va da un 2014 ancora relativamente normale, vedete, questi sono sull'asse delle ordinate, vedete i megawatt che sono in eccesso, però si sta velocemente andando verso una situazione di estremo eccesso di capacità, quindi arrivare a 20 e poi a 25 mila megawatt, quindi un eccesso di capacità molto molto importante. Allora anche qui, che cosa succederà? Non facile dirlo, soprattutto anche qui in una pagina, però ho messo insieme tre punti, il primo è mercato grande, come dicevo è l'aspetto positivo, quindi grandi opportunità, grandi investimenti che si devono fare, si devono fare sicuramente entro il 2020 per rinnovare l'impianto, cifre che girano nel mercato, che sono state dichiarate, che entro il 2035, che comunque è in là, ma in un settore energetico non è così in là, si parla di 500 miliardi di dollari di investimenti necessari, quindi chiaramente una grande possibilità di investimento per tutti noi, per tutte le aziende che lavorano in questo settore. Però, ripeto, c'è un tema di sovraccapacità e con un mercato che qui è definito stagnante, forse con un eufemismo, quindi tendenzialmente in contrazione, e quindi qui è necessario, così come il governo e il regolatore stanno pensando, di fare degli interventi importanti e decisi, in termini di decommissioning, quindi di chiusura di impianti, impianti più vecchi, meno efficienti, e per ritornare al tema che dicevamo prima, di sostenibilità, è chiaro che quelli più vecchi e meno efficienti sono anche quelli che sono meno attenti all'ambiente, per motivazione di tecnologia, oppure metterne altri in cosiddetto, con un termine inglese, mouth balling, che vuol dire messa in riserva, messa in naftalina, letteralmente tradotto, per cui è possibile utilizzare alcuni impianti nel momento in cui ci sia bisogno di picco. Quindi questa è una soluzione che però deve essere fatta in tempi rapidi, perché la situazione è veramente una situazione delicata attualmente nel mercato. E l'ultimo punto è quello che vi dicevo, se oltre il 70% ha più di 25 anni è necessario andare avanti con una deregolamentazione che sta succedendo ma deve essere portata a termine, e che quindi permetta su dei meccanismi di mercato di fare degli investimenti per aumentare l'efficienza degli impianti. Questo è un punto molto importante che è necessario per il mercato, ripeto, non solo per un tema di efficienza, se parlava prima il professor Profumo di efficienza energetica, ma anche di attenzione all'ambiente e di sostenibilità della produzione di energia. Il settore delle rinnovabili. Allora, ho fatto in questa pagina un po' la sintesi della situazione. Il background lo conosciamo. È chiaro che è un mercato in cui c'è una ricchissima disponibilità di combustibili fossili, e di ogni tipo, e oltretutto un mercato, se lasciatemi dire, un po' drogato, nel senso che il prezzo del gas è sussidiato, quindi non rispetta il vero prezzo del gas, quindi un prezzo di energia, come diceva anche prima Filippo, molto basso. È chiaro che non è la situazione migliore, lo scenario migliore per partire con un programma importante di rinnovabili. Però il governo si è dato comunque un obiettivo, è partito con un meccanismo di incentivi che noi riteniamo comunque un buon meccanismo, poi vedremo, cercherò oggi di dare alcuni suggerimenti per il fine tuning, per il miglioramento di questo schema di base, in cui tendenzialmente viene riconosciuto un contratto sulla capacità di produzione di energia rinnovabile per 15 anni. Quindi questo meccanismo basato sul mercato, quindi c'è una gara, è una cosa positiva, è una cosa che sta succedendo nel mondo, ormai la situazione di tariffe fisse per le rinnovabili è il passato, ormai, e noi riteniamo come Enel, ma tutto il mercato ritiene che sia questo il futuro, ci sono dei meccanismi di mercato che portano alla tariffa, o in questo caso il pagamento della capacità, al minimo possibile di mercato. Quindi non c'è dubbio neanche di discussione, la tariffa è troppo alta, troppo bassa, perché il mercato dice questo. Gli sviluppi recenti hanno fatto alcuni cambiamenti, il programma è partito qualche anno fa, non ha avuto un grande successo per una serie di vincoli, anche prima erano citati da Filippo, per esempio il local content, è chiaro che tutti i governi quando partono con un programma di energia, in particolare energie rinnovabili, vorrebbero che i produttori si insediassero, i produttori di macchinari si insediassero. È chiaro che però se non garantisci una visione di lungo periodo, e delle quantità in termini di obiettivi di rinnovabili elevati, i produttori non vengono. Infatti le prime gare che sono state fatte, a parte un unico produttore di solare locale russo, per le macchine eoliche sono andate deserte, perché nessun produttore riusciva a mecciare, riusciva a arrivare ai livelli di local content che erano previsti. Questo è stato cambiato, è stato ridotto, però è chiaro che era un elemento sicuramente ostativo al successo del programma. L'altro elemento è un discorso di capex, per cui anche in questo caso veniva messo un massimo livello di capex, che però era molto sensibile al cambio, e quindi con la grande volatilità del cambio che c'è stato, questo ha portato gli investitori ad avere molto paura ad entrare in questo settore. Proprio su questi punti vi dico qualche elemento di spunto, noi ne abbiamo parlato, il governo e il regolatore sono molto aperti, non solo ovviamente con noi, ma con tutto il settore elettrico per discutere di questi punti. Il primo è quello che vi dicevo, gli obiettivi devono essere aumentati e deve avere un periodo di lunga visibilità, un investitore, perché è chiaro, sia come investitore che come produttore di macchine, le scelte nel settore elettrico-energetico sono su uno span temporale a volte di 10-15 anni, quindi fare in un breve periodo non è un incentivo per i produttori. Quello che vi dicevo anche dell'aggiustamento dei cambi, è chiaro che se si lascia completamente nelle mani degli investitori il rischio cambi, con la volatilità che tutti noi conosciamo del rublo negli ultimi mesi, soprattutto ma anche prima, è chiaro che questo scoraggia gli investitori. Un'inchiesta di local content, quindi di richiesta di produzione locale, che deve essere crescente ma deve partire necessariamente da un livello basso. E ultimo, anche qui è stato citato, bisogna ridurre tutti quelli che possono essere gli ostacoli per gli investimenti, quindi una facilità nella connessione della rete, piuttosto che nei permessi, piuttosto che nella locazione dei terreni, tutto questo facilita e attrae maggiori investimenti. Quindi una base regolatoria buona, una buona base su cui però sono necessari ancora alcuni aggiustamenti. Vado subito alle conclusioni, che riprendono un po' i temi di cui vi ho parlato brevemente in questi pochi minuti. Il primo è, è già attualmente il mercato russo in una fase di trasformazione importante, che deve far fronte a una vetustà degli impianti e una domanda decrescente o stagnante anche in futuro. È necessario ricostruire un corretto equilibrio tra domande e offerte. Ad oggi l'equilibrio non c'è, è un equilibrio oltretutto su cui non influisce un prezzo del gas che è tenuto volutamente, chiaramente anche qui è comprensibile da parte di un governo in crisi, in tutta Europa succede, chiaramente in Russia in un momento così difficile è particolarmente sentito, si tiene il prezzo del gas basso per non avere un aumento delle tariffe. Ma facendo così è chiaro che il settore dei produttori di elettricità rimane schiacciato, perché ha dei costi, ha una svalutazione del rubro molto elevata, costi di inflazione al 11, diceva oggi il Ministro, forse 14-15%, tassi di interesse al 15-18%, è chiaro che i produttori rimangono schiacciati tra questi vari elementi. Una volta che noi sono convinto che una volta che queste riforme verranno messe in piedi, gli investimenti che sono già presenti, l'abbiamo visto oggi anche da parte di multinazionali, anche nel nostro caso però riprenderanno vigore, riprenderanno sicuramente in termini di dimensione un livello maggiore, e quindi io ritengo che solamente in questo caso uno degli sviluppi su cui Enel, ma credo che veramente tutto il mondo ormai creda, cioè l'investire nelle rinnovabili, sia una delle possibili soluzioni, però è necessario fare tutto questo, una volta fatto questo le rinnovabili potranno portare a un settore più efficiente, un settore più green, che è quello che noi tutti vogliamo per il mondo e per la Russia stessa. Grazie.